Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale di Lina. Oggi abbiamo il bigliettino nuovo. L'ho trovato, l'ho preso un paio. Vediamo un po' come vanno. Allora, sono 5, 10, 12, 14 euro oggi. Allora, due pop e due tris. Se li trattiamo al tornado, ecco, così facciamo. Incominciamo col tris. Ok, vediamo un po' che si dice. Buona visione a tutti amici e vediamo un po', questo è il numero 14 della solo 30. Dobbiamo fare il tris. Incominciamo con un diamante, una corona e un sole. Poi abbiamo pollita, lingotto e pollita. Continuiamo con ciacco, ciacco e fiore. Poi abbiamo con carta, diamante e perla. Niente, primo bigliettino, numero 40. Andiamo col primo dei pop. Primo biglietto che gratto. Questo è il numero 44 della serie 39. Penso che tutti lo conoscono già. Comunque è semplicissimo. Bisogna grattare i simboli. Non ci sono numeri, ci sono simboli. È semplice perché bisogna grattare i simboli. Poi se troviamo un simbolo sulle celline qua, vinciamo il premio corrispondente o la somma dei premio. Se poi troviamo un premio con sotto giallo o blu, vinciamo per 2 o per 5. Ok. Detto questo, andiamo alla nostra grattatina. Allora, le celline ci dicono. Qui non ci sono neanche i nomi delle cose, che io questa non ho già capito che cos'è. Vabbè, qualcosa sarà. Questa è una saletta, un pulmine, non so se la saletta la chiamo io. Questa è un'anguria e questa è un'auto. Questa è una pizza forse. Io non so che cos'è. Io non riconosco che cos'è. Se me lo dite voi. Ok. Prima stellina. Incominciamo con un donut. Poi abbiamo la cassetta e la fragola. No, noi abbiamo l'anguria. Poi abbiamo gli occhiali. La macchina fotografica. La scarpa. Non ce l'abbiamo. Poi abbiamo una valigia. questa è una camera. Questa è una camera. Questa è una camera. Un disco, una camera. Questa è un arcobaleno. E sul panino. poi abbiamo una giacca. Se non abbiamo. E un chilè. O il tubotto, non so. O questo è il tubotto e questo è il chilè. Vabbè, fate voi che cos'è. Poi abbiamo le patatine. Questa è una radio. E funiamo con una mela mozzicata. E penso che non abbiamo fatto niente. perché io non vedo simboli uguali. Niente da farlo. Vedete, se questo fosse stato un simbolo, avremmo vinto per 5. Se questo fosse stato un simbolo nostro, avremmo vinto per 2. Comunque non è il nostro caso. Ok. Ciao. Buogliettino numero 44. Andiamo col trissi. Questo è 15. Soglie 30. Allora, collana, sacco e carta. Poi abbiamo coccarda, coccarda e soldi. Monete, soldi e portafogli. Ultima giocata, anello, gloria e anello. Niente amici, niente da fare. Puglietto non vincente. Andiamo con il secondo pop, che è numero 45 della serie 39. Vediamo se ci dà a voi qualcosa. Se no, andiamo al plop. Dal pop andiamo al plop. Ok. Allora, numeri nuovi, non sono numeri, scusate, simboli vincenti. Angoria. Poi sono i burilli. Poi abbiamo le ciliegie. E una sveglia. Ok. Vediamo un po'. Qui abbiamo un t-shirt. Poi abbiamo un portamonete. E una lampadina. Poi abbiamo una cassetta. Questa è una banana. Ah, la sveglia però l'abbiamo presa, amici. Ok. Sveglia. Prima vincita. Poi abbiamo una palla. Un globo. Non lo so che cos'è. Un discoteca. Allora, valigia. E telefono. No. Continuiamo con... Un quadro. Non lo so che cos'è una foto. Poi abbiamo una buccia. E una sveglia. Niente. Continuiamo con gli occhiali. Poi abbiamo l'arcobaleno. E finiamo... Con la stampa. Allora, una vincitina c'è. Che ci dice? Cinque euro. Urra! Vi resta il buglietto. Ok. Prima vincitina. Se due buglietti, ne abbiamo presa una. Questo è il numero 45. Vabbè. Comunque la nostra cattatina si conclude così. Allora. Due buglietti da cinque. E due da due. Unico recupero è stato questo. Con la sveglia. È vero? Penso che fallo così. Ah, no. Aspettate un po'. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Per due. Scusate. Mi sto sbagliando. Vedete? La sveglia è gialla. Allora abbiamo presa per due. Vabbè cinque se non dici. No. Grazie. Meglio. Meglio. Meglio così. Ok. Penso che è così. Io comunque mi controllo con l'applicazione. Poi ve lo faccio sapere. Se è diverso ve lo dico. Se non dico niente vuol dire che è così. Penso di aver preso dieci euro. Ok. Grazie. Prima vincitina. Ok. Due buglietti li abbiamo ripresi tutti due. Ok. Bene così. Intanto ringrazio tutti per l'avvisore. Vi do appuntamento al prossimo video. Iscrivetevi e condividete un po' l'evento. Ciao ciao a tutti. Un bacio e un abbraccio alla lina. Ciao al prossimo video.